Ciao, sono i Ranelesti dell'azienda Montemercurio, cantina situata a Montepulciano, in Toscana. Anche noi quest'anno saremo presenti al prossimo Merano Wine Festival e in degustazione potrete trovare il nostro vino nobile di Montepulciano Messaggero 2016, che è il nostro vino di rappresentanza ed è composto dal 95% di Sangiovese e un 5% di Canaiolo Nero. Il nostro vino nobile di Montepulciano ha ottenuto come riconoscimento la medaglia gold. Oltre al nostro vino nobile troverete in assaggio anche il nostro vinsanto tradizionale 1992, vinsanto prodotto solo con uve locali come il Canaiolo Bianco, la Malvasia Bianca Toscana, il Trebbiano Toscano, il Pulcic in culo e una piccola percentuale di Sangiovese. Pensate che questo è un vinsanto che ha fatto un affinamento per ben 25 anni nei nostri caratelli tradizionali. Il nostro vinsanto ha ricevuto come riconoscimento la medaglia gold ed è inizia per il premio platinum. Ci vediamo a Merano!